E' da anni che non entro in una disco non pagato Duro più degli altri rapper perché arrivo già segato Una delle barra conclusiva delle due Lì si ferma, si ferma tutto Si ferma gli orologi Quando ho ricevuto il fit ero con Matteo Stavo mangiando Ero incontenibile Lo sai perché? Perché la strofa sembra normale La stavamo ascoltando con le mani Sta spazzando Arriva quella parte lì